Sicuramente è una sensazione incredibile visto che è anche la prima meta per me in mondiale e sono contento che sono riuscito oggi a fare vedere quello che io sono capace di fare da numero 8 e portare la palla davanti. Oggi siamo riusciti a fare il lavoro che siamo venuti a fare e siamo contenti di questo, di continuare su questa strada che stiamo facendo ora. Stiamo divertendo in campo, siamo un gruppo e giochiamo come una squadra, queste sono le cose fondamentali per una squadra e secondo me siamo su un buon momento e dobbiamo mantenere questo momento che abbiamo e niente, passa così. Sì, come ho detto anche durante la settimana è andata la prima partita quindi quella pressione e stress non ci sono più. Oggi siamo entrato al campo e abbiamo giocato a rugby, finalmente siamo tutti contenti, infatti beviamo una vera su questo e poi adesso lavoriamo duro da due mani per fare un'altra prestazione di questo genere. Diciamo l'emozione sicuramente è stato un pensiero a casa, insomma come sempre al perché e come sono arrivato qua e quindi il pensiero va alla mia famiglia, ai miei amici e a chiunque mi sta vicino. Abbiamo costruito diciamo questa vittoria meglio rispetto a settimana scorsa, siamo stati molto più pazienti nel primo tempo, abbiamo fatto le cose che avevamo lavorato e nel secondo siamo riusciti a dilagare, insomma siamo più soddisfatti e più felici di questa vittoria.